L'incontro finale sarà all'improvviso. Il Papa ha messo al centro del primo Angelus di Avvento il brano del Vangelo Domenicale in cui si parla del ritorno di Cristo alla fine dei tempi. La parola di Dio, ha osservato Francesco, fa risaltare il contrasto tra lo svolgersi normale delle cose, la routine quotidiana e la venuta improvvisa del Signore. E in questo senso, sempre ci colpisce a detto pensare alle ore che precedono una grande calamità. Tutti fanno le cose solite senza rendersi conto che la loro vita sta per essere stravolta. Per questo, in Avvento, ha affermato il Papa, è importante allargare l'orizzonte del cuore senza fare resistenza quando il Signore viene per cambiare la nostra vita perché ha assicurato la dimensione nella quale vuole introdurci è più bella e più grande. Il Vangelo certamente non vuole farci paura, ma aprire il nostro orizzonte alla dimensione ulteriore, più grande, che da una parte relativizza le cose di ogni giorno, ma al tempo stesso le rende preziose, decisive la relazione con il Dio che viene a visitarci, dà a ogni gesto, a ogni cosa una luce diversa, uno spessore, un valore simbolico. Da questa prospettiva viene anche un invito alla sobrietà, a non essere dominati dalle cosse di questo mondo, dalle realtà materiali, ma piuttosto a governarle. Dopo la preghiera mariana, Francesco ha ricordato e pregato per le popolazioni del Centro America, Costa Rica e Nicaragua in particolare, colpite da un uragano e da un forte sisma e per la gente del Nord Italia, vittima di alluvioni.